I carabinieri di Brescia lo hanno immobilizzato dopo averlo attirato sulla porta di casa con uno stratagemma. Poco dopo le 7 di mattina Mario, 74 anni, era rimasto barricato in casa per tutta la notte dopo aver esploso alcuni colpi di fucile. La moglie Marilisa aveva lasciato l'abitazione alle prime avvisaglie di una forte agitazione dell'uomo, malato e sottoposto a pesanti terapie che potrebbero aver inciso sul suo equilibrio. Dopo aver sparato senza colpire a nessuno. Nel pomeriggio Mario in stato confusionale si era chiuso nell'abitazione di sopraponte di Gavardo in Valle Sabia. Una casa isolata al termine di una strada chiusa. Tutta la zona è stata messa in sicurezza dai carabinieri presenti con l'aliquota di pronto intervento. L'uomo deteneva legalmente numerosi fucili. Per tutta la notte il negoziatore ha cercato di convincerlo ad arrendersi. Solo all'alba Mario ha accettato di affacciarsi per parlare. Non aveva armi in mano e i carabinieri ne hanno approfittato per bloccarlo in sicurezza. L'uomo, descritto come di carattere acceso ma non violento, è stato denunciato e si trova nel reparto di psichiatria di un ospedale vicino.